Non si arresta l'ascesa della scala dei turchi di Realmonte nella classifica I luoghi del cuore, la campagna nazionale per i luoghi italiani da non dimenticare, promossa dal FAI, Fondo Ambiente Italiano, in collaborazione con Intesa San Paolo. La bianca falesia che si erge a picco sul mare lungo la costa grigentina, pochi giorni dal lancio della decima edizione del censimento dei luoghi italiani da non dimenticare, ha ricevuto una pioggia di clic, 961 voti, e si trova ben piazzata al diciottesimo posto della classifica ufficiale del FAI, pronta a scalare ancora la vetta. E per contribuire alla scalata a Realmonte pensano già alla costituzione di un comitato. La scala dei turchi è diventata nel tempo un'attrazione turistica, sia per la singolarità della bianca scogliera dalle peculiari forme, sia a seguito della popolarità acquisita grazie alla fiction il commissario Montalbano, tratta dai famosi romanzi di Andrea Camilleri. Nell'agosto del 2007 è stata presentata all'UNESCO da parte del comune di Realmonte una richiesta ufficiale, affinché questo sito geologico venga inserito nell'elenco dei patrimoni dell'umanità. Negli anni Ottanta un piano di lottizzazione permise l'avvio di un cantiere per la costruzione di un complesso alberghiero proprio sulla spiaggia ai piedi della scala dei turchi. I lavori però vennero bloccati nel 1992 e il luogo fu vincolato perché riconosciuto di particolare pregio. Nel 2013 l'ecomostro è stato abbattuto dopo una lunga battaglia giudiziaria che ha visto le associazioni ambientaliste e lega ambiente FAI a fianco del comune di Realmonte. Nell'ottobre 2015, grazie alla sinergia tra FAI e comune, è stato abbattuto un altro ecomostro che sorgeva su un piccolo terrazzo roccioso e da tempo deturpava significatamente la scogliera. Alla demolizione resa possibile dal contributo di 20.000 euro dei luoghi del cuore e l'azione del comune è seguita la riqualificazione dell'aria, trasformata in belvedere pubblico. La scala dei turchi oggi è un sito protetto e immodificabile. Per votare è necessario collegarsi al sito www.iluoghidelcuore.it e verificare se il proprio luogo del cuore è già presente sul portale. Si può votare online per la scala dei turchi con due modalità, attraverso la registrazione al portale o attraverso il proprio profilo Facebook. È possibile votare più luoghi, ma per ognuno si può esprimere un solo voto. La partecipazione al censimento è gratuita ed aperta a tutti. Vengono stanziati 50.000 euro per il primo classificato nazionale, 40.000 euro per il secondo e 30.000 euro per il terzo, a fronte della presentazione di un progetto. È previsto lo stanziamento aggiuntivo di 5.000 euro per i luoghi che superano i 50.000 voti, indipendentemente dalla posizione in classifica, sulla base di specifici progetti da presentare al FAI. Grazie a tutti.